Direttore Colella, relativamente al comportamento dell'amministrazione comunale di Taranto non è solo questione di cordolo, si tratta di un'amministrazione che evidentemente non riesce a cogliere le esigenze dei commercianti e molte volte, troppo spesso, non dialoga con gli stessi. Infatti il tema che oggi stiamo ponendo non è quello dei cordoli, è l'ultimo dei problemi. Il problema è la mancanza di dialogo, la mancanza di una capacità di programmazione, di pianificazione, la mancanza della capacità di rispondere ai bisogni. Abbiamo anni di discussione sulla carenza dei parcheggi, sulle carenze della viabilità. Io penso a Cimmino che è sotto gli occhi di tutti, penso alla chiusura del parcheggio Icco, penso alla non realizzazione del parcheggio di baraccamento cattolico, di artiglieria, al parcheggio Cruce. Se li mettiamo tutti insieme vi accorgete come un disegno di una città che pure è stato descritto nel piano urbano della mobilità, con parcheggi di interscambio che bloccano una parte dei traffici e con parcheggi di prossimità negli arei più importanti della città, è completamente disatteso. Quindi si finisce per dare centralità al cordolo o ai dieci posti in più che occasionalmente vengono fatti. Anche sul parcheggio Icco noi avevamo chiesto di sentirci una volta finiti i lavori, che sono durati ben più di quello che era stato programmato, per definire come utilizzarlo con abbonamenti, con gratuità per i consumatori. Tutto questo non avviene, quello che dovrebbe essere, che viene indicato anche dalla comunità europea come un elemento essenziale della pianificazione, cioè il confronto, la discussione, è aria fritta. Ci troviamo di fronte a decisioni assunte e decisioni sempre molto fuori da un'idea di pianificazione.